Cosa accadeva negli altri paesi europei quando Elisabetta diventò la regina d'Inghilterra? Dunque la Germania era a metà divisa tra i principi che avevano scelto di seguire Lutero e quelli che invece erano rimasti fedeli al cattolicesimo. La Francia era nel pieno delle guerre di religione che vedevano combattersi in modo molto cruento i cattolici e gli ugolotti. La Spagna invece stava diventando un regno potentissimo. Filippo II, vedovo di Maria la Sanguinaria, era salito al trono ed era diventato re di un paese molto ricco grazie a tutto l'oro e l'argento che arrivavano dalle colonie del centro e del Sud America. Aveva una flotta numerosissima e molto potente e aveva un territorio che comprendeva oltre alla penisola iberica compreso il Portogallo anche quelli che oggi sono Olanda e Belgio, i Paesi Bassi, delle colonie in Italia e poi non dimentichiamoci tutte le colonie del Sud America. Che cosa mancava a Filippo? Mancava una regina e lui chiese la mano alla regina Elisabetta che però rifiutò ma da donna astuta e molto intelligente non gli disse subito di no si prese del tempo, tutto il tempo che le serviva per rendere più forte il suo regno perché Elisabetta sapeva che prima o poi l'Inghilterra si sarebbe scontrata con la Spagna e quindi doveva rafforzare la sua potenza per poter uscire vincitrice da questo conflitto. Come fare? Allora, per prima cosa bisognava diventare più forti nei commerci con le terre al di là dell'Oceano Atlantico proprio quelle terre da cui gli spagnoli ricavavano le loro grandi ricchezze. Le navi spagnole cariche di oro e di argento prelevate dalle miniere facevano tappa nelle isole caraibiche per poter far rifornimento e attrezzarsi per poi affrontare il lungo viaggio verso le coste spagnole. Ovviamente questo mare era ampiamente infestato dai pirati che non vedevano l'ora di assaltare questi galeoni spagnoli stracolmi di oro e di argento. Qual è la novità e che cosa c'entra l'Inghilterra? E' presto detto. Elisabetta dà ordine ai pirati inglesi che in questo modo da pirati si trasformano in corsari perché in pratica si metteranno a lavorare per la regina di assaltare i galeoni spagnoli e di dividere il guadagno con la corona d'Inghilterra. Ovviamente questo era un accordo super segreto che non sapeva nessuno tranne la regina e il Parlamento e questi guadagni furono veramente tantissimi in un anno le casse del Stato inglese guadagnarono con questi assalti alle navi spagnole molto di più che non con gli introiti delle tasse. Il più famoso dei corsari inglesi fu Francis Drake che addirittura nel 1581 fu fatto diventare cavaliere fu nominato Sir da Elisabetta in persona. Procurarsi dei soldi però non era sufficiente, non bastava. Allora Elisabetta per prima cosa costituisce un ammiragliato. Cos'è un ammiragliato? È una specie di ministero della Marina era un gruppo di esperti che dovevano prendere tutte le decisioni importanti che riguardavano la flotta inglese e questo ammiragliato non lo affidò a un nobile come succedeva a tutte le corti negli altri regni europei ma lo affidò proprio a un corsaro con una logica chi meglio dei corsari si intendeva di mare. Il compito di questo ammiragliato era quello di riorganizzare la flotta. Allora per prima cosa basta grandi galeoni come erano quelli della flotta spagnola ma vennero costruite delle imbarcazioni più piccole che avevano il vantaggio di essere più veloci e più maneggevoli e soprattutto vennero riempite di cannoni a lunga gittata cioè cannoni che riuscivano a colpire un bersaglio senza doversi avvicinare troppo e infine ultima novità ma non meno sconvolgente delle altre il comando delle navi non fu affidata a dei nobili che come succedeva anche proprio alla flotta spagnola magari era la prima volta che mettevano piede su una nave dopo aver ricevuto il comando no la regina Elisabetta cosa fa affida il comando della sua flotta delle sue navi o a dei corsari o ai pescatori di balene del mare del nord quindi a marinai espertissimi ok ma come si è passati da Filippo II che vuole sposare Elisabetta a Filippo II che dichiara guerra a Elisabetta allora dobbiamo spostarci e andare in Scozia in Scozia c'era Maria Stuart che era stata moglie del sovrano francese Francesco II poi il sovrano era morto lei era tornata in Scozia e successivamente si era sposata una seconda volta Maria Stuart era anche una cugina un po' alla lontana però comunque una cugina della regina Elisabetta in Scozia Maria fu osteggiata dai nobili calvinisti lei era molto cattolica come del resto tutta la dinastia degli Stuart venne osteggiata vennero fatti dei complotti contro di lei e a un certo punto venne addirittura accusata di aver ucciso il suo secondo marito cosa fa Maria? durante questi 20 anni la cugina Maria Stuart ordirà dei complotti contro la regina Elisabetta fino a che scoperto uno di questi complotti la regina deciderà di processarla deciderà di metterla a morte e Maria Stuart sarà veramente decapitata l'8 febbraio del 1587 cosa c'entra in tutto questo Filippo II? beh allora intanto la cosa suscitò un grande scalpore in Europa perché una sovrana anglicana aveva giustiziato una cattolica una regina cattolica regina perché di nascita Maria Stuart era una regina e addirittura se Elisabetta fosse morta Maria avrebbe potuto avere delle pretese sul trono inglese molti furono scandalizzati il Papa prima di tutti anche degli altri sovrani e qualcuno cominciò a sostenere che forse questa morte andava vendicata Filippo II era un re molto cattolico e era molto amico di Maria Stuart questa cosa gli fece cambiare idea sulla regina Elisabetta in più la corona inglese aiutava gli olandesi che in quegli anni cercavano di ribellarsi al dominio di Filippo II la goccia poi che fece traboccare il vaso fu il fatto che a un certo punto Filippo II si rese conto che i corsari che assaltavano i suoi galeoni pieni di ricchezze lavoravano proprio per la regina Elisabetta ed ecco quindi spiegato come mai Filippo II passa da una proposta di matrimonio a dichiarare una guerra alla regina avendo una flotta molto forte si organizza mette insieme più di 130 navi degli enormi galeoni fortissimi ben equipaggiati che sotto il nome di invincibile armata partono alla volta dell'Inghilterra non era riuscito a conquistare il cuore di Elisabetta era deciso a conquistare con la forza il suo regno ma le cose non andranno come si era aspettato perché in realtà la flotta inglese molto più piccola e per certi aspetti anche più debole riuscirà a difendersi egregiamente cerchiamo di capire brevemente che cos'era successo partiti dalle coste spagnole le navi di Filippo II si dirigono verso il canale della Manica primo errore perché il canale della Manica era ben difeso e soprattutto molto ben conosciuto dai marinai inglesi è un canale stretto le navi inglesi piccole e facili da maneggiare riusciranno a insinuarsi tra la flotta spagnola a fondarne parecchie e poi a scappare via la flotta spagnola è costretta prima a fare una sosta sulle coste olandesi e poi visto che gli inglesi non abbandonavano anzi avendo capito la debolezza degli spagnoli avevano attaccato ancora di più la flotta spagnola cosa fa? con il vento favorevole e solo grazie a quello riesce a sfuggire dalle navi inglesi e si dirige verso nord gli inglesi non si danno neanche pensiero di inseguirli perché sanno perfettamente che cosa aspetterà le navi spagnole le quali costrette a quel punto a dover circunnavigare l'arcipelago inglese saranno soggette a parecchie tempeste terribili e a venti che soffieranno in direzione contraria e riusciranno a rimettersi sulla rotta per la Spagna praticamente decimate e arriveranno sulle coste spagnole soltanto il 21 di settembre l'invincibile armata era stata sconfitta ed era stata sconfitta anche pesantemente in Inghilterra ci saranno dei festeggiamenti strepitosi questa battaglia passata alla storia come la battaglia della Manica è ricordata ancora oggi nella storia inglese con molto orgoglio addirittura furono fatti dei francobolli commemorativi ma al di là di questa piccola curiosità devi tenere presente che questa sconfitta non fu semplicemente una guerra persa ma fu l'inizio della decadenza del regno di Filippo II e più in generale della potenza spagnola